La vendemia 2022 in Veneto ha prodotto oltre 15 milioni di quintali d'uva in gran parte doc per quasi 12,6 milioni di ettolitri di vino contro gli 11 del 2021. Nel contempo la superficie vitata ha superato quota 100 mila ettari, numeri che collocano il Veneto al primo posto tra le regioni vitivinicole italiane, spinta anche da un export proiettato verso i 2 miliardi a fronte di un andamento in flessione a livello nazionale. Quando si parla di vigneti, uva e vino, in Veneto è d'obbligo iniziare dalle province di Treviso e Verona due sistemi vitivinicoli tra i più importanti al mondo con Prosecco, Amarone e Valpolicella sugli Scudi. Il Veneto si pone al comando della classifica dei maggiori esportatori di vino in Italia con una quota del 36% sul totale nazionale.